bella a tutti ragazzi e benvenuti qui sono io sono vittorio mastro89 e oggi siamo in un vlog perché ieri non ho registrato è molto semplice a dire la verità io il video l'ho fatto solo che come un deficiente non mi sono accorto che era troppo lungo e quindi youtube non ha fatto caricare perché io ho il massimo di 15 minuti non l'ho potuto caricare dopo questo video ce ne sarà un altro però ora non lo posso fare perché stanno facendo di l'occhio nella mia camera e aspettiamo che finiscano e poi vado a fare il gioco che ho fatto l'altra volta però non mi ha fatto caricare youtube grandi youtube avevo fatto 16 minuti un minuto in più vabbè non me l'ha fatto caricare e carico il video ovviamente questi fail possono capitare anche in altri giorni magari a volte non ho il tablet per registrare però a volte devo andare da qualche parte magari faccio anche un vlog quando vado da qualche parte e poi vedremo allora comunque per non fare il video lungo di vi dico alcuni alcuni pezzi che ho fatto l'altra volta allora ho strappato la mia lista perché non andava bene perché non posso fare sempre gli stessi giochi voglio trovare un modo prima o poi di riavere il mio vecchio canale che vi ringrazio di aver raggiunto i 10 iscritti solo che non posso più registrare e se qualcuno che mi seguiva sull'altro canale adesso mi segue su questo vi dico perché una volta avevo registrato un video non sa perché mi ha detto crea un canale non carica il video subito ma soltanto non mi ha fatto proprio crea un canale come se mi avessero tipo chiuso il canale oppure diciamo che non mi ha fatto caricare il video è come se vittorio master non esisteva più e va bene e spero che finiscano presto così vi faccio il video sentitemi che giochi volete forse domani farò Call of Duty siccome domani oggi non ho caricato questo è un video poi vi farò l'altro del gioco che ho fatto ieri per ora io sto aspettando e aspettiamo nel mentre dico qualche cosa allora credo che dopo domani farò di Eppo.io o magari uno di .io poi me lo dite voi magari anche con qualche penitenza oppure magari domani leader.io o qualcuno dei .io e poi dopo domani Call of Duty cioè che si invertono poi vedremo sto cercando di ritrovare il programma per registrare dal tablet perché voglio fare qualche video di Five Brightest Freddy's e non so perché voglio farlo però lo voglio fare ho dei problemi mentali e potrei anche stoppare il video però oggi voglio fare uscire due video almeno tutti e due di quindici minuti perché ieri non ho caricato quindi vi faccio questo regalo due video in un giorno cioè questo solo un attimo ragazzi avete presente il video con i miei amici con Fido, il cane ecco la vendetta di Fido ciao aspetta che non ti si vede ciao come potete vedere è cresciuto un sacco guardate oh oh ah solo che adesso non ci sono i miei amici il vero Fido saluta Fido dai Fido mettiti qua aia non mi si morte ditemi se volete un video col cane magari scendiamo giù dove va il swag sta guardando il palloncino è intenzionato ah Uw ww wow guardarle in la Fido camera magari sto inquadrando il nulla però come potete vedere qui c'è un palloncino lì c'è il mio camera vi gotta un pallonc- die mi ha saltato in faccia guardate come fissa il palloncino in modo magari poi i lavori non finiscono non posso caricare i paper please ma sti cazzi ops ho detto il video ho detto il gioco che giocavo grande ti è seduto in una maniera juega perché tu sei juego dillo che sei juego tanto ormai ti abbiamo trovato ho dei palloncini e più che altro si spaventa zecchete 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 bing ragazzi volevo dire una cosa riguardo al video delle palline anti stress allora non so se ho sbagliato qualcosa io però non fatele perché perché non so se ho sbagliato qualcosa io ma tre volte le ho fatte tre volte sono esplose tutte quante non so se è qualcosa della creazione che prima o poi la farina fa esplodere il palloncino come sono esplose tre volte la mia casa sta di sembra che il tetto non c'è sta nevicando ogni giorno è bianca quasi ogni giorno e ho smesso di farle perché già sono state inondate tre stanze e ne mancano tre sì ti aiuto a grattarti era solo un video per avvertirvi Fido ma tu sei normale no ma veramente tu sei un canno normale che cazzo fai eh? deficiente questo era un video per avvertirvi perché salute a Fido fa sotto nei commenti hashtag Fido salute ma smetti di giro pagarti per tutto il divano? era un video per avvertirvi era un video per avvertirvi di perché ieri non ho caricato si lecca la pancia si lecca la pancia non so come faccia però lo fa anzi non so come pancia non so come pancia leccarsi la pancia eh vabbè era un video per avvertirvi di perché ieri non ho caricato però se lo facevo di tre minuti volevo tipo farvi questo regalo del secondo video in un giorno e quindi se lo facevo di tre minuti non si poteva chiamare video avrò un attimo a fare e il cane è uscito io qui ci avevo fatto il vlog con i miei amici che avevo tipo messo il tablet qui e la verità era il telefono di mio padre con un treppiedi che peccato che quel canale sia andato perso avevo fatto 30 video altrimenti e facevo lo speciale di 50 video e anche lo speciale di 10 iscritti però non si è proprio potuto fa perché si è levato bella 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 grazie a tutti grazie a tutti